Signore e signori, la carbonara! Oggi per Chef in Camicia abbiamo deciso di riproporvi la carbonara con un metodo quasi tradizionale. Facile, veloce, ma soprattutto super cremosa. Vamos! Per prima cosa partiamo dal guanciale tagliato in listarello e lo tuffiamo in padella fino a quando non sarà croccante. Con l'aiuto di un colino lo scoliamo, lo asciughiamo, mettiamo il grasso da parte che ci servirà per la cottura delle uova. Bagno maria e tuorli tutti dentro. Io utilizzo un tuorlo circa ogni 100 grammi di pasta. Pastorezziamo le uova, mescolando in continuazione aiutandoci anche con il grasso del guanciale a filo. Otterremo così una salsa d'uovo cremosa e ben emozionata. Fuori dal fuoco aggiungiamo pecorino, mescoliamo e mettiamo da parte. Caliamo la pasta, spaghetti, tanti spaghetti. Fuoco spento e aggiungiamo senza pietà la nostra crema d'uovo super cremosa. Pecorino, pepe e guanciale a sentimento. Acqua di cottura se necessario, mantechiamo. Prepariamoci all'impiattamento. Piatto piano, coppa pasta e levatelo perché tanto non ci servirà niente. Dobbiamo lanciare nel piatto almeno un chilo di pasta. Prendetevi qualche momento per contemplare quest'opera d'arte. Arrivati a questo punto, se non vi emozionate, buttate tutto e ricominciate. Ora, non ci resta che mangiare, che ve lo dico a fare ragazzi. Viva la pasta, viva l'Italia, buon appetito.